buongiorno a tutti oggi una gran bella giornata per venire a scalare a venire a fare un bel hiking siamo qui a ovindoli e ci stiamo dirigendo verso il la serra di celano con noi il grande zio salve tutti dateci un vericello dateci un vericello c'è anche Sara con noi oggi e dateci un vericello perché la situazione è questa al momento questa è la situazione quindi adesso abbiamo fatto una piccola buca per cercare di recuperare un po la ruota abbiamo messo qualcosa sotto facciamo un tentativo di risalita mi sa che qua manco con il trattore cazzo che grande la macchina stava praticamente tutta dentro la parte dietro e non si usciva ragazzi non si usciva oltretutto mi sa che il differenziale è partito quindi adesso comunque ce ne andiamo su alla sera di celano e poi piano piano torneremo a roma a 40 50 all'ora ce la faremo ringraziamo mister 88 simone di mister 88 che c'è un pub ecco a ovindoli chiamato tramite un'associazione 4x4 grandi 4x4 stanno in tutta l'italia raga quindi quando vi succede una cosa del genere andate su internet se bevi al telefono è venuto è partito si è presentato un grande ancora grazie andremo sicuramente a trovare a farci una birra al suo pub e niente mo ci prepariamo e partiamo per la salita non lo capite mai ma la buca è importante giornata un dei migliori anzi partita male in tutti i sensi tempo macchina cerchiamo di farlo andare meglio almeno da arrivare in vetta buona visione a andiamo all'incrocio Montedino, andiamo di qua, in Serra di Celano, in questa cresta andiamo a Milona Venna un bel vetticello, di là poi invece ci ritorniamo verso l'indola oggi il 21 maggio 21 manca dicembre manca dicembre fa freddo ragazzi, bel venticello e adesso partiamo con le roccette ok un po' Ehi ragazzi Anche oggi, nonostante tutto, come sempre, la raggiungiamo, andiamo in Vettà alla Serra di Gerano o Ponte Tino. Grande zio che un passo alla volta, con la sua recita spirituale, sta arrivando, anche lui nonostante tutti i mali, tutti i problemi, che noi siamo più forti dei problemi e dei mali. Come parta via? Venti e quattro, non passa sola! Venti e quattro, non passa sola! Venti e quattro, non faccio, invece stiamo qua! Questa l'ha reso dieci volte! Qui sotto abbiamo il bivacco la Serra. Questo è un bivacco alpino! 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 Io non ci credo, ma pure qua! Pur qua la monnezza! Porco! Perchè? 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 Porti la monnezza, portacela via! Mi riempio del cazzo, no? L'acqua quasi bolla, su questo pomodorini freschi. Stiamo quasi. Allora. Allora. Qui diciamo che alla famiglia gli diciamo che stanno bene? Sì. E' stato morto. Ma come dormi stasera? Domani vai a Roma. Sì dai, non capisco. Non avrò e ci diamo. Mi fai simpatico. No, è vero. Ti senti fatica perchè ti dico la verità. No, mi fai simpatico. Porca puttana. Spettacolo. E come secondo? Fagioli. Fagioli e salsiccia. Terziacorina. Mmm. Un'altrai. Grazie a tutti.